Nella manovra del 2024 il governo di Giorgia Meloni ha deciso di tagliare i fondi per i disturbi alimentari. Questa è la notizia riportata anche dal Sole 24 Ore. Con questa decisione il governo ha scelto di lasciare da sole tutte le persone che soffrono di anoressia, bulimia e tutti gli altri disturbi del comportamento alimentare. Perché questa cosa è grave? Perché in realtà i disturbi del comportamento alimentare sono la seconda causa di morte tra gli adolescenti. Giusto per darvi qualche numero, in Italia nell'ultimo anno ci sono state 3780 persone morte a causa proprio dei disturbi del comportamento alimentare. Senza questi fondi 22.000 persone che sono in cura si troveranno in difficoltà, ma questo non sono io a dirlo. Infatti al Sole 24 Ore ha parlato e ha spiegato meglio cosa succederà adesso Laura Dallaregione, la direttrice della rete disturbi alimentari dell'Umbria e del numero verde nazionale SOS disturbi alimentari. E vi leggo direttamente le sue parole. Lei dice Sono numeri veramente alti e veramente impressionanti. Peccato però che quando si è presa questa decisione al governo se ne siano fregati e quindi non solo chi è affetto da queste malattie si troverà a doverle affrontare con tutte le conseguenze del caso, ma a questo punto si ritroverà anche da solo perché purtroppo in tantissime regioni, come viene spiegato qua, purtroppo non ci sono i centri adatti e quindi queste persone sono costrette a viaggiare anche per centinaia di chilometri per uscire a trovare una struttura che possa aiutarli e curarsi. Ecco questo in un paese civile non dovrebbe essere normale, questo in un paese in cui vengono pagate delle tasse per aver garantito una sanità pubblica non dovrebbe essere normale. Purtroppo lato nostro l'unica cosa che possiamo fare è parlarne e cercare anche di protestare per questa scelta e di diffondere la voce perché di queste malattie si parla sempre troppo poco, ma si parla di migliaia di persone che soffrono di disturbi alimentari. Nonostante invece dal governo a quanto pare la scelta è quella di cancellare queste persone e come abbiamo visto di cancellare anche la vita di oltre 3.700 persone che sono morte solo nell'ultimo anno in Italia.